Il maltempo abbattutosi all'improvviso sulla città e sul territorio nel fine settimana dopo un periodo di seccità non è ancora finito. Le previsioni meteo annunciano ancora temporali per giovedì pomeriggio dopo le precipitazioni insolitamente intense di ieri quando sono piovuti 100 millimetri su Cremona in sole due ore tra le 5 e le 7 del pomeriggio. La rete fognaria non ha resistito alla sovrabbondanza d'acqua e i sottopassi della tangenziale sono diventati trappole liquide dalle quali gli automobilisti sono rimasti bloccati. Allagamenti diffusi, alberi caduti, garage e cantine sommersi con ben 130 chiamate contemporanee ai vigili del fuoco, morbasco in piena e semafori in tilt in alcuni degli incroci più trafficati come fra via Giordano e via Mosa e fra via Giuseppina e via Buoso da Dovara. I tecnici di Citelum sono dovuti intervenire d'urgenza. Si è alzato rapidamente il livello del Po crescendo da meno 7 metri a meno 4,32 il livello di oggi pomeriggio in poche ore. L'assessore Alessia Manfredini ha convocato una riunione urgente con i consorsi di Bonifica, Padania Acque e tecnici comunali per evitare conseguenze negative in occasione delle prossime piogge. I disagi sono continuati stamattina all'apertura dell'anno scolastico. Gli studenti dell'ITIS hanno dovuto attraversare la tangenziale a piedi poiché il sottopasso era lagato. La protezione civile regionale sabato aveva avvisato il comune con un codice giallo che indica crisi ordinaria per i temporali eventi forti e rischio idraulico a Cremone provincia. Vita difficile anche stamattina per i ciclisti e i pedoni per una serie di tre incidenti stradali, il primo alle ore 7.30 in piazza Fiume quando un'automobilista per una questione di diritto di precedenza ha investito una ciclista trasportata in ospedale per lesioni mediamente gravi. Una pensionata di 77 anni in piazza 4 novembre è caduta abbattendo la testa sul marciapiede dopo una brusca frenata di un furgone alle 9.30 all'ospedale risultata non grave. Infine un ciclista nel primo pomeriggio è stato trovolto da un'auto all'incrocio tra via Massarotti e piazza Cadorna e portato all'ospedale per accertamenti.